Mi chiamo Marco, ho iniziato a utilizzare le solette Ares sette mesi fa circa, le trovo un ottimo prodotto perché sono particolarmente reattive e per questa loro caratteristica rendono la corsa agile e a mio cariere soprattutto quando si inizia a spingere. Io pratico prevalentemente trail, sono un trail run e sto utilizzando le solette anche quando faccio questo tipo di uscite. La soletta oltre a essere efficace in salita la trovo ottima nella discesa, uno perché ti fa sentire molto meno l'asperità del terreno e due perché rende più agevole il recupero dopo le fatiche della salita.